Quest'oggi ho fatto un bel colpo al casino, però partiamo dall'inizio con una bella vendita del bunker anch'essa succulenta. Vendi per 400.000, oggi puntiamo agli 85 milioni. Prego una vendita breve, grazie. Dobbiamo portare il secondo, Bastardi. Tipo, sembrerebbe che ci siano stati anche di mezzo quelli hacker belli di quella nazione, in cui si parla tutto così. Sì, cioè ci siamo tutti e sì, sembra che ci siamo mezzo anche loro e altre gente. Tipo, dovrebbero essere stati indici, è una roba simile, solo che uno l'hanno beccato, che è quello che ha pubblicato il post. Il povero Cristo. Vabbè, ma secondo me aveva accettato i rischi, a mio parere. Lascia stare quel sito lì strano che tipo di... Mi sto, sto esplodendo l'insurgent. Sto, sto esplodendo l'insurgento. Io 400.000. Per casi Giga Chad. Depositiamo anche questi, 83. Bene, dopo la vendita, è ora di fare il grande colpo. Guardalo quanto fiero di fare il colpo. Ah, guida io, Godo, addio. Bastarda. Anzi, aspetta, aspetta, aspetta. Voglio far vedere... Farei una cosa. No, non posso farlo, peccato. Godo, non puoi farlo, mi stia. Non posso farlo. Che non è... Non siamo... Non siamo nemici, quindi... Non puntare il ferro contro i civili, dopo si spaventano. Si minchia, poveretto. Ce la fai. No, devo fare il chat. Usa la scorciatoia bella. Madonna. Non funziona quel cazzo. Porco. Scusi, ma lei è di canazzaro, non può fare. Eh, ho esplosito il coso. Non ce la fai oggi. Come cazzo, quindi? Su due ruote. No. Ma veramente sto qui... Ma basta. Ma signore, mi si trova. E te chiudi la porta, che fa freddo. Aiuto. Durudurudur. Durudur. Oddio. Ho rotto tutto. Vai avanti, stronzo. Ecco fa. Grazie. Vai, su. Ehi, te peso molto. Ehi. Porca miseria. Scusa. Ah, la scorciatoia devo fare quella che abbiamo... Che sappiamo, ok. Aspetta un secondo, che ci sono i Maranza qua. Maranza mi ha imboccato la maglia. Tornate nel vostro regno. Quanto è fatto bene. Ciao. Ah, eh, sì, bello. Gioco, due punti. No, non carico. Sbatti sulle porte. Vai. Oh, no. Ma perché ho ancora la maschera? Guarda che bello. Io non ho più il cappello. Guarda, sono un otaku. Tu hai la maschera, io no. Ah, sono un otaku. Non sai che succede. Potrei scatenare l'ira di... Giovanni Mucciaccia. Ah, no, scusa, lui non faccia parte. Beh. Volevo dire Giorgio. No, ma anche lui. Allora, allora. Se lo rifallisci un'altra volta... Io, ma cosa vuoi da me? Conta. Tre, due, uno, vai. Mi toccherà... Mi toccherà scatenare l'ira di suori con le gallette di riso. What the fuck? Voglio io le gallette di riso. Deve imparare comunque a fare l'hacking, perché... Scusa, eh. Ma in realtà non ho fallito solo uno, ti devo dire. Guarda che io sono al letto diamanti. Per sbaglio mi ha messo a baccherare. Gli ho dato canc. Appena sono uscito dall'hacking mi è suonato l'allarme. Tipi assolutamente un po' coloschi, eh. Fip. Non passa niente in nessuno, proprio. Vado subito ad aprire questi due. Tu quanti ne hai da prendere due? Le impronte digitali le so a memoria, mamma mia. Inizio neanche a guardarla. Allora, c'hai EF aperto. Vado ad aprire anche GH. Quindi ha tutto. Il mouse si tenta tantissimo. Allora. Ma tipo se metto l'autoplicer che succede? No, no. Ma dici che funziona? No, perché tipo GTA massimo prende 12 gps. Perché io ho fatto butterfly con il Logitech. Vai, prendi gli altri due. Oh, mi raccomando, è solito non farci fare il colpo. Cosa vuoi da me? Non era. Si vede che tu non sei un Bravo Good. Si vede subito. Quindi, non hai diritto di parlare contro di me. Io ho preso tutto qua. Tu fai EF. Ma tipo anche a me adesso mi è capitata due volte la scatola. Ma lo sai qual è il bello dei diamanti? Che valgono tanto ma non pesano un cazzo. È vero. Tipo io credo che i diamanti, la corsa dei diamanti sia quella come con l'oro tipo. No, come con l'oro, come con tipo i soldi o i quadri. No, mi sa che non riesco a prenderlo questo però. No, usciamo. Mi sta facendo malissimo un dito, te non lo sai. Hai preso tutto? Esci, stacca. Quattro lingotti. Stacca. Esci, veloce. Ok. Mani in alto, mani in alto. Vai là. 3, 2, 1. Sì, ma fallo allo zero, non al 2. Tranquillo. Tipo io sono... Che hai detto? Vabbè, sono straretto. Perché? Salve. Porta sul retro, cos'è? Ah, beh, è la solita. Saliamo ascensore o scale? Con l'ascensore, con l'ascensore. Ah, faccio io? Io preparo il ferro. Andiamo. Ma non sono alertate sopra. Casso. Aspetta, eh. Ma non te lo ricordi come si faceva? A posto. Ah, sì, vedi. E questo lo leviamo. Di qua. Aperta, gordo. Sì, ciao. Aspetta, 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 aspetta. Vai più indietro, più indietro, più indietro. Vai. Quello lascialo vivo. Ciao. I pompieri. Pompieri. I pompieri con la torcia. No, cioè, te non lo sai, ma guarda questa tecnica. Adesso ti sto estinguendo. Caso. Stai per estinguere. Mi appoggia. Andiamo. I pompieri. I pompieri. Paura non mi ha. Che poi che cazzo ci fanno i pompieri? In un casino. Non lo so. È bruciato il cavo. La prossima volta si fa pezzo grosso. O pezzo di me. No. Il senso. Cazzare. Ah, dai, su, che ti stavi annoiando. Vabbè, almeno era giusto per il conto. In realtà non avremmo avuto granché da fare oltre al casino, quindi era una buona idea, affidati di me. Last guy. Io ritorno. La frega. Ti giuro, tipo... Non so cosa ti farei. Esplodere il gatto. No, no, proprio il gatto. Quello? Prima di tutto. No, è storto il mio gatto, non lo puoi fare esplodere. Serve violenza su di me. Se ti dicessi che siamo in un vicolo cieco. No, io no. Eh, eh. Hashtag godo. Tanto non puoi andare. Tipo, sai? Il mele è quello del... Come cazzo hai fatto ad andare avanti? Cioè, te non sai, ma io tutte le volte che... Dico godo, penso sempre... Ah, ma non c'era il filo spinato qua. A una clip meme che ha fatto... Cioè, che ha messo todo in un video. In cui c'è, tipo, ad esempio, quel meme... Però c'è godo con quel sound in rate. È un tipo che fa canestro e poi esplode. Però non so perché non mi fa ridere. Boh. Non ti devi chiedere. La cosa che mi fa ridere, ho visto la polizia. È arrivata e le stelle sono andate. Eh, ma tu ridi, dividi gli occhi. Io no. Ce lo dico, effettivamente, però... Stavolta, non andare in Cile. Vieni subito. Bene, tranquillo. No, io adesso sto fermo qua finché non vieni. E ti sto guardando nella mappa. Eh, lo sai che sono in una volta posizione. Mi ammazzo, giuro. Tranquillo. Niente failerà stavolta, perché so io fa... Speranza che esponi un veicolo a quel mini aeroporto. È un heliporto. Perché lo chiama aeroporto? Perché non sai l'italiano. È vero, io so il Catanzaro. Giustamente sai i cantini. Parla l'Afghano. L'Afghano parla di lui. Ma tipo è top per driftare la... La, 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 la... Aia, mi sono schiantato. Godo. Non devo smettere di pensare a quel nero. Ti muovi. È bellissimo. Ed è andato di nuovo all'heliporto, ma... Porco! Speriamo chi arriva prima stavolta. Godo. Godo tanto. C'è una roba all'heliporto. Tua madre? L'hai trovata lì? È stata rapita dagli alieni? Siamo a che punto sei te. È vero, io forse. L'ho abbastanza indietro. Allora, se non arrivo, arrivo, ma comunque arrivo. No, arrivi prima tu. Dovina che elicottero ho trovato? Il Mabel. Cioè, di me io non potevo trovare. No, l'acqua! Prova a indovinare. La cula. Non posso unare la cula. Dai, allora, ce l'hai anche te. Frogger, per forza. No, è un elicottero. Sono andato all'heliporto, quindi... Un elicottero che ho anch'io. Un elicottero. Busardo! Sì. Sono armato, ma è busardo. È un passaggio. Mi sono spaccato i timpani da solo perché mi sentivo nelle cuffie, no? Sì, ma vuoi un busardo passaggio? No. Sicuro? Eh? Sicuro. Che ti venga a esplodere. Senza le armi, ma lui può. Eh, 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 allora. Se io mi schianto, però. Inghia, finalmente sei arrivato. E sono arrivato prima di te. Ma non è vero. Ma no. Credevo che arriva prima dall'acquirente. Beh, ti sei ripartito 8 anni prima. Tu te ne sei andato. Io rotolo. Faccio il panino rotteante. Dice che ce l'ho al paracadute. No. Che ce l'ho. In ogni caso, sono arrivato prima io. Oh, io. Zucca. Sono arrivato prima io. Ma dici? Guarda che io c'ero già qui. Gli ha 4 anni per sto colpo. Ma perché è colpa tua? Ma vaffanculo. Che hai perso 4 volte. No, 2 volte abbiamo fallito il colpo. Un miglione a testa? No, no, no. Non so che c'è. Onestissimo, dai. No. Napoli te lo ficchi ne... No, questo non lo ficchi. No, vabbè.